Voi ve lo ricordate? In quell'epoca non si parlava che di guerra, della prossima guerra, la prossima conflagrazione, il flaggello è imminente, i due blocchi si scontrano, i titoloni così sui giornali, scoppierà la prossima guerra e punto interrogativo, quel punto interrogativo che ti tiene in ansia, che ti fa guardare continuamente l'avvenire con distacco, il presente così con disprezzo e forse il passato con nostalgia. Dico questo è un argomento scottante, un argomento di attualità e cominciai a scrivere la commedia.